e si chiama Twice ed è una canzone che dentro il nostro cuore noi dedichiamo una persona che è molto importante per noi e non è qui stasera e niente, è per voi, anche per voi. Grazie mille. Grazie mille Grazie mille Grazie mille Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 con il suo gruppo www.mesmerism.info